Le dispiace farci passare i popotama Qui Cirillo per le ultimissime notizie da Sgombonia Sandrino e la sua squadra hanno appena risolto il mistero delle ciliegie cadute Ma insomma quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari Avete già piantato tutti i semi Ti va di aiutarmi con il puzzle? Grazie